SORELLE E FRATELLI, AMICI E AMICHE Eccoci al nostro secondo appuntamento di questo mese estivo di agosto e eccoci ancora una volta alla presenza del Signore. Per ascoltare la Sua parola, per pregarlo, per invocarlo, per ringraziarlo. Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ha creato i Cieli e la Terra e che ci salva in Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Troviamo scritto nel Salmo 6 Torna, oh Signore, libera l'anima mia, salvami per amore della Tua benignità. Oh Signore, non correggermi nella Tua ira, non castigarmi nel Tuo cruccio. Preghiamo. Oh Signore Dio, ascolta la nostra supplica e fa che in questo momento di culto possiamo ricevere la Tua parola con umiltà e con riconoscenza per conoscere così tutta la salvezza che ci viene annunziata nell'Evangelo di Gesù Cristo, il Tuo figliolo, con Te o Padre, benedetto nei secoli. Amen. Vieni in mezzo a noi, Dio liberatore, ci raccogli in tutte il tuo grande amore, non lasciarci più con te la tempesta, ogni notte è festa, se non mai sei tu. Se tu vuoi, Signore, siano tuoi testimoni, anche il nostro corpo tu vuoi rinnovare, che la tua volontà dacci un'alvenire, anche il nostro agire gloria te darà. Danci per il te, Dio della speranza, ogni notte è festa, della danza di credulità, tu puoi trasformare, il grande male di fraternità. La volta scorsa abbiamo letto nel Vangelo di Marco la fine del capitolo 8 e la prima parte del capitolo 9 e ci siamo soffermati sulla trasfigurazione. Abbiamo detto che Gesù e i Suoi discepoli poi scendono di nuovo dal monte e ritornano nel mondo fra gli uomini. E che succede in quel momento? Oggi vogliamo proprio leggere il racconto che fa subito seguito alla trasfigurazione, i versetti che seguono quelli che abbiamo letto la volta passata. Siamo ancora nel capitolo 9 di Marco, i versetti da 14 a 29. Giunti presso i discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scribi che discutevano con loro. Subito tutta la gente accorse e come vide il Signore Gesù fu sorpresa e corse a salutarlo ed egli domandò di che cosa state lì a discutere con loro? Uno della folla gli disse Maestro, ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto e quando si impadronisce di lui dovunque sia lo fa cadere a terra e gli schiuma, stride i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero ma non hanno potuto e Gesù disse loro O generazione incredula Fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me Glielo condussero e come vide Gesù subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con delle convulsioni e caduto a terra si rotolava schiumando e Gesù domandò al padre Da quanto tempo gli avviene questo? Egli disse Dalla sua infanzia E spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire Ma tu Se puoi fare qualcosa Abbi pietà di noi E aiutaci E Gesù Dici Se puoi Ogni cosa è possibile per chi crede E subito il padre del bimbo esclamò Io credo Vieni in aiuto alla mia incredulità Gesù Vedendo Che la folla correva Sgridò lo spirito immondo Dicendogli Spirito muto e sordo Io te lo comando Esci da lui E non rientrarvi più Lo spirito Gridando e straziandolo forte Uscì E il bambino rimase Come morto E quasi tutti dicevano E' morto Ma Gesù lo sollevò Ed egli si alzò in piedi Quando Gesù fu entrato in casa I suoi discepoli Gli domandarono in privato Perché non abbiamo potuto scacciarlo noi? Ed egli disse loro Questa specie di spiriti Non ti può far uscire in altro modo Che con la preghiera Benedica il Signore L'ascolto della lettura Che abbiamo fatto Della sua parola E voglia benedire anche La nostra predicazione Quale amico in Cristo abbiamo Quale rifugio nel dolore In preghiera a Lui compiamo Tutto quel che curva il cuore Una pace che perdiamo Ognuno di l'idolo Perché tutto lo confiamo E preghiera al chalato Se c'è la tentazione Del peccato Il signo al cuore Di temermi Ognuno di l'anore Perché tutto è salvato Un amico si veloce Dove mai poter trovare Ci confendeci la pace Ogni veloce Ogni veloce vuol portare Quando stanchi e travagliati Nella prova ci proviamo Il signor Il signor non ci ha lasciati Tutto tutto a Lui portia Ci abbandonino altri amici Ma Gesù ci accoglierà E con Lui saremo felici Che riposo ci trarà Allora come avevamo visto e detto La volta passata Ecco che Gesù Dopo questa grande scena Della trasfigurazione Scende con Pietro, Giacomo e Giovanni Dall'alta montagna Dove la luce di Dio Ha sfolgorato in Lui E torna nel mondo Laddove piuttosto regna L'oscurità E subito è proprio L'oscurità più cupa Che gli si fa incontro Una scena emblematica Di tutta la povertà Di tutta la nostra miseria umana Il contrasto impressionante Dalla pace luminosa di Dio Che aveva fatto esclamare a Pietro E' bello per noi stare qui All'aggrovigliarsi Delle forze oscure del male E dell'incapacità umana Di fronteggiare il male I discepoli che erano rimasti Ai piedi del monte Erano stati da poco mandati Da Gesù in missione Avevano anche compiuto Delle guarigioni E cacciato degli spiriti impuri E allora erano lì Tutti fieri del successo Della loro missione E sicuri ormai Di poter vincere Ogni forma maligna Ogni spirito impuro E quando si era presentato loro Un povero padre Di un povero figlio epilettico Che era venuto a cercare Gesù Gli avevano detto Con tutta sicurezza Il maestro non c'è Ma questo non ha importanza Perché ci siamo noi Che ormai abbiamo imparato bene da lui E siamo in grado anche noi E siamo in grado anche noi Di dominare e sconfiggere Ogni tipo di demonio Ogni tipo di malattia E quel padre era stato colpito Dalla loro sicurezza E si era affidato Alle loro mani Ed ecco allora i discepoli Raccogliersi attorno al ragazzo Ammalato Ecco i loro comandi Allo spirito Che era in lui Uno spirito Che aveva Germito Con tanta forza Quel misero corpo Da non avere più Neanche bisogno di parlare Per manifestare La sua presenza Perché Gli bastavano i contorcimenti Le urla Le sofferenze Di dolore La bava Che fuoriusciva Dalla bocca distorta Di quella miserabile creatura Per far capire a tutti Chi era Il suo vero Signore Spirito immondo Noi te lo diciamo Esci da costui In questo modo Devono aver detto I discepoli Prima Con calma Con tranquilla sicurezza Poi via via Con un tono Più forte Con grida Sempre più agitate Ripetute Perché lo spirito Non aveva Nessuna voglia Di uscire da quel corpo E non usciva Nonostante i comandi Nonostante le grida E così La situazione Si era fatta imbarazzante E in qualche modo Addirittura Ridicola Come spesso Il tragico E ridicolo Questa strana scena Di uomini Che urlano E di un ragazzo Che si dibatte Sempre di più E alla fine Era arrivata Della gente Attirata Da tutto quello E si era raccolta Una gran folla Ed erano arrivati Anche Degli iscrivi Degli esperti Della scrittura Che avevano cominciato A discutere Con quel gruppetto Di Così Sprovveduti Come dire Così guaritori Esorcisti Ed ecco Nel cuore Di questo imbarazzo E di quella sofferenza Nel cuore stesso Della miseria umana In qualche modo Qui rappresentata A tutti i livelli Arriva Gesù E subito La folla Ogni persona Lì presente Sente una scossa Sente Come un brivido Correre lungo La sua schiena Perché tutti Misteriosamente Ma chiaramente Avvertono Che colui Che sta arrivando Ha qualcosa Che lo rende diverso Da tutti gli altri Sentono Che è il solo Che può davvero Prendere su di sé Il peso Di tutta la sofferenza Di quel fanciullo Così accasciato E distrutto Dal male E che può far questo Proprio perché È sovranamente Estraneo Alla miseria E alla presunzione Umana Perché in lui Nei suoi occhi Nel suo sorriso Nella sua parola Si intuisce La presenza stessa Di Dio L'amore di Dio Che è venuto In mezzo Agli umani E chi più di tutti Avverte questo È colui Che più di tutti È toccato E straziato Da quella sofferenza Il padre Di quel bambino Di quel fanciullo Posseduto Dalla potenza Muta Del male Che subito È lui A rispondere Alla domanda Che Gesù Ha fatto Su quello Che sta accadendo E subito Entra in dialogo Allora con lui E questo È un dialogo Sorelle e fratelli Tra i più drammatici E al tempo stesso Più potenti E belli Dell'intero Evangelo Perché a parlare Sono qui Da una parte Da una parte Gesù Il Signore Dell'amore E dall'altro Un uomo Reso In qualche modo Grande Profondo Nei sentimenti E nei pensieri Anche lui Dall'amore Per il figlio E dalla Sua stessa Sofferenza E al termine E al vertice Di questa conversazione Ecco le tre Esclamazioni Che si intrecciano Tra di loro Spalancando Davanti a noi Tutto L'abisso Della sofferenza E della speranza Umana E tutta la grandezza Del dono Che Dio ci ha fatto Mandando il suo stesso figlio A farsi essere umano Come noi Il padre è davanti Al suo bambino Che come una bestia Impazzita Si rotola Sbavando Nella polvere E davanti A quella scena Ripercorre Tutto il lungo Itinerario Di dolore Che lo ha portato Sin lì Un bambino Per un genitore È sempre fonte Di gioia Di serenità Di pace Quante volte Quando dopo Una giornata Di lavoro Si rientra a casa Stanchi Magari insoddisfatti Magari preoccupati E pronti a prendersela Con tutto E tutti E poi vediamo I nostri piccoli Sgambettare Sorridenti Incontro a noi Dimentichiamo tutto La stanchezza Se ne va Scompare E ci sentiamo Subito Riconciliati E grati Alla vita Per questo padre Non è stato così Il male Si è avventato Sul suo figlioletto E se ne impadronito Sin da quando Era bambino Sin da quando Era piccolo E allora Per quell'uomo Guardare suo figlio È sempre stato Un lungo Ininterrotto gemito Un continuo strazio Un vero Lungo Tunnel Senza fine E ora Che lo vede Ancora una volta Dimenarsi Sotto le frustate Crudeli Del male Ora che anche Il ricordo Del passato Ha aggiunto Il suo carico Di orrore All'orrore Del presente Quell'uomo Non può Non gridare Ormai Scoraggiato Ormai avvilito Dopo l'ennesimo Fallimento Dell'ennesimo Tentativo Di liberare Suo figlio Da quell'abisso Di sofferenza Non stiamo Ancora qui A parlare Mentre mio figlio È straziato Se tu puoi Dice A Gesù Perché In fondo Quest'uomo Comincia A pensare Che forse Non è che Possa farci Tanto Gesù Considerando I discepoli Che ha Se tu puoi Aiutaci Abbi pietà Di noi E quanto è profondo Questo noi Non di lui Del figlio Ma di noi Delle sue E delle mie Sofferenze E Gesù Ha pietà Del loro Dolore E anche Pietà Dello scoramento E dei dubbi Di quel povero padre E in maniera Decisa Forte e chiara Lo chiama La fiducia Alla fede in Dio E in colui Che Dio ha mandato E che sta lì Davanti A lui Come se puoi Tutto è possibile A chi crede E il padre Travolto Dalla sofferenza E scosso Da quelle parole Cariche al tempo stesso Di amore E di rimprovero Intuisce L'offerta Di salvezza La fune Che Gesù Gli sta apporgendo Per tirarlo fuori Dall'abisso Per tirare fuori Lui e suo figlio E con uno slancio Del cuore Grida credo Credo Sì io credo Ma poi Poi lo slancio Si interrompe La ragione Torna A dominare E allora Non può non Pensare Ai mille dubbi Alle mille incertezze Che la troppa Lunga consuetudine Con il dolore Hanno insinuato E fatto crescere Nel suo animo E così Subito Senti il bisogno Di aggiungere qualcosa Quel suo Io credo E aggiunge Una preghiera La più toccante Forse La più bella preghiera Di tutto l'Evangelo Perché generata E plasmata Dalla sofferenza Io credo Ma tu Vieni in soccorso Alla mia incredulità Davvero La sofferenza Ha reso grande Il cuore di Quest'uomo Tanto grande Che lui C'è spazio Contemporaneamente Per la fede E per l'incredulità Grida Io credo E subito Deve smentirsi Dicendo Vieni in soccorso Alla mia incredulità Sa che soltanto Facendo ricorso All'onnipotenza Divina Soltanto avendo Il coraggio Di saltare Al di là Dei confini Del possibile Dell'umano La sua sofferenza Può essere vinta E al tempo stesso Ha paura Di compiere Quel salto Che gli sembra Addirittura folle E così Fa un passo avanti E poi si ritira indietro E come è bloccato Come è paralizzato Anche lui come suo figlio Stretto Dalle catene del male Ed ecco allora La sua invocazione Disperata Insieme Ricolma di speranza Ecco il suo guardare A Gesù A quell'uomo Nel quale intuisce La presenza La presenza di Dio Ed eccolo invocare Da lui Dalla sua fede Un aiuto Per la sua Incredulità E Gesù Guarda a sua volta Gli occhi Di quell'uomo E coglie tutta La lotta interiore Che lo strazia Il conflitto terribile Tra il suo voler credere E il suo Non poter credere E forse Pensa Che anche per lui Verrà un momento Simile a questo Che anche lui Soffrirà Lo stesso strazio Che ora Spezza il cuore Di quel povero padre Forse qui Gesù Sta pensando Alla sua morte Ormai non più Tanto lontana E all'urlo Con il quale Lassù Sulla sua croce Darà sfogo Alla speranza E alla disperazione Che lotteranno Tra loro Per impadronirsi Di lui Perché l'urlo di questo padre Credo ma tu soccorri Alla mia incredulità È tanto simile Al grido Dio mio Dio mio Perché mi hai abbandonato Che anch'esso Nato dalla sofferenza Si leverà alto Dalla croce Verso il cielo E allora Ecco il suo intervento Potente E compassionevole Al tempo stesso Ecco L'intimazione Allo spirito del male Spirito muto e sordo Io te lo ordino Esci da costui E non entrare mai più In lui E lo spirito del mondo Colmo Di rabbia Impotente Deve andarsene Deve lasciare Quella preda Per lui Tanto preziosa Deve abbandonare Quel corpo Che credeva suo Per sempre Così Con un grido Di furore Strazia per l'ultima volta Quelle membro Ormai non più sue E se ne va Il ragazzo Crolla a terra E resta immobile Come morto Ma Gesù Il signore della vita Lo prende per mano E lo solleva È quasi una scena Di risurrezione E il bambino Adesso se ne sta in piedi Dritto Finalmente un essere umano Non più un ammasso Di carne Sbavante E ululante Di suo padre Di quest'uomo Così nobilitato Dalla sofferenza Non si parla più Ma forse Ricompare Proprio Alla fine Di questo racconto Quando Gesù Rispondendo Ai suoi discepoli Che mogi Mogi Gli chiedono Come mai Loro non sono stati In grado Di scacciare Quello spirito malvagio Dice Che soltanto La preghiera Poteva operare Quella liberazione Molti commentatori Dicono che qui Gesù parla Della sua preghiera Io penso Che si possa anche dire Che Gesù Qui invece Sta parlando Della preghiera Di quel povero padre È stato quel suo grido Teso ad esprimere Al tempo stesso La sua fede E la sua incredulità È teso Allo sforzo Di andare oltre Quel contrasto Tra fede Ed incredulità Che si dibatteva Nel suo cuore È stato quello A mettere in fuga Lo spirito Che straziava Suo figlio E allora vedete Questo di Marco 9 14 29 È un grande testo Un testo Che ci fa riflettere Sulla preghiera Ma soprattutto Ci fa riflettere Su quella realtà Fondamentale E misteriosa Nostra E al tempo stesso Estranea E a noi Che è la fede Perché Che cos'è la fede? È forse il sereno Possesso Di tutta una serie Di certezze È forse tranquillità Pace del cuore E della mente Parlando del padre Del nostro testo Abbiamo sinora Parlato di Una lotta Straziante Tra fede E incredulità Tra voler credere E non riuscire a credere Forse abbiamo sbagliato Perché forse In questo padre Non ci sono fede Di incredulità In guerra Fra di loro Ma c'è soltanto Una vera Profonda fede E basta Perché la vera fede È proprio In fondo Questa continua lotta Questo strazio Del cuore Forse Quando Il Signore Ha detto Che il regno Dei cieli È oggetto Di violenza Faceva proprio Riferimento Alla lotta Che chi crede Deve sostenere Continuamente Contro la propria Incredulità I propri dubbi Sempre riaffioranti E angosciosi Perché Da sormontare Sempre E sempre Di nuovo Perché Credere È esattamente Il contrario Della tranquillità È mettersi Sempre in questione Essere continuamente In sospeso Come sull'orlo Dell'abisso È accettare Di tendere Ad un Dio Che si raggiunge Solo con il desiderio E mai con il possesso Solo Con l'oscurità Della mente E del cuore E mai con la luce Di chi è convinto Di avere tutto Perfettamente chiaro In sé Davanti a sé Credere È sapere Di dover sempre Pregare In modo tale Che ogni nostra Preghiera Non sia altro In fondo Che un esprimere Con parole Sempre diverse L'invocazione Del padre Del ragazzo Vittima Dello spirito Muto Io credo Ma tu Vieni In soccorso Alla mia Incredulità Amén In preghiera In preghiera Grazie a tutti. Oh, Signore, ti vogliamo pregare come il padre del Vangelo di Marco. Ti vogliamo pregare così e ti dobbiamo pregare così perché tutti siamo in fondo nella sua condizione. Allora ti vogliamo dire io credo ma tu soccorri alla nostra incredulità. Sii vicino a tutti quelli che fanno fatica a credere, a tutti quelli che vorrebbero credere e non ci riescono, a tutti quelli che non cercano neanche più di credere. Sii vicino a tutti coloro la cui fede è scossa dal dolore, dalle sofferenze, dai fallimenti, dai lutti. Ti preghiamo davvero, Signore, per tutti i fratelli e le sorelle che soffrono nelle nostre chiese e nel mondo intero. E per tutti quelli che sono nella tribolazione, nell'angoscia, nello smarrimento, dona al mondo la tua pace, dona al mondo la tua consolazione, dona libertà alle popolazioni asservite, rendi giustizia agli sfruttati e agli oppressi e fai che la tua chiesa si preoccupi sempre e soltanto di servire te nella testimonianza che rende alla tua parola e di servire te nei più miseri degli esseri umani, combattendo perché nel mondo si affermi la tua giustizia, si affermi il tuo amore, si affermi la tua pace. Te lo domandiamo in Gesù, il tuo volto presente in mezzo a noi, Lui che ci ha insegnato la preghiera che dà forza, sostanza, alimento alla nostra fede, perché ci ricorda che siamo tutti e tutte tuoi figli e tue figlie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci esporra la tentazione, ma liberaci dal maligno. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Amen. E riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore ti benedica e ti custodisca. Il Signore faccia splendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore sollevi su di te il suo volto e ti doni la pace. Amen. Il Signore Il Signore Il Signore